gli inglesi li chiamerebbero tiny house piccole case autonome dalle dimensioni ridotte ma in questo caso dalle decorazioni estremamente raffinate nel caso di una tra le più recenti unità abitative emerse nel corso delle indagini in atto nel cantiere dell'insula dei casti amanti nel quartiere centrale della città antica di pompei lungo via dell'abbondanza una casa dallo spazio distretto senza il tradizionale atrio una particolarità considerato che nonostante le ridotte dimensioni della dimora non sarebbe stato impossibile l'inserimento di un piccolo atrio con la classica vasca in pluvio per la raccolta dell'acqua piovana tipico nell'architettura delle ricche dimore pompeiane e che invece in questo caso è assente l'abitazione colpisce per l'alto livello delle decorazioni parietali che non ha nulla da invidiare alla più grande ricca casa dei pittori al lavoro con la quale confina grazie al ritrovamento di un affresco ben conservato rappresentante il mito di ippolito e fedra la si è denominata provvisoriamente casa di fedra il cantiere in corso presso l'insula dei casti amanti e oggetto di un complesso progetto diviso in due lotti differenti che ha previsto diverse fasi di cui alcune già concluse si e che hanno permesso di rendere possibile la fruizione al pubblico del complesso attraverso un sistema di passarelle sopra levate attualmente gli archeologi del parco stanno operando nel settore nord est dell'isolato all'interno di una serie di ambienti con accesso dal vicolo orientale è un esempio di archeologia pubblica o come preferisco chiamarla archeologia circolare conservazione ricerca gestione accessibilità e fruizione formano un circuito virtuoso dichiara il direttore del parco gabriel zuktriegel siamo in una casa piccola ma riccamente decorata di pompei e lo scavo dell'altare domestico dell'arario di questa casa richiede come spesso la collaborazione di vari specialisti abbiamo qui archeologi restauratori archeobotanici per comprendere esattamente lo svolgimento del rituale dell'ultimo sacrificio prima dell'eruzione ci sono ancora i resti bruciati di questo rituale c'è il coltello che veniva utilizzato ma anche uno scavo che si svolge sotto gli occhi del pubblico che può accedere sopra ci sono delle passerelle sospese tutti i giorni potete venire osservare quello che spesso si svolge dietro le quinte l'enorme lavoro di archeologi restauratori architetti qui a pompei ma in maniera simile anche molti altri luoghi dell'italia grazie grazie